Lo dobbiamo fare. L'americano, l'amico nostro, ce l'ha chiesto e mica come favore. Quello c'è amici grossi in Sicilia, in America e gente con cui ne dovemo litigare. Una ragazza Donatella Caruso, 21 anni, viene picchiata, stuprata e strangolata. Il padre chissà come trova l'assassino, lo ammazza e si suicida. Il caso viene chiuso, ma c'è qualcosa che non torna. Pronto? Buonasera, è il PM Bianca Benigni? Sì, mi dica. Il professore americano Victor Bonocore è stato ucciso nella sua villa a Roma. L'indagine è affidata a lei e l'assisterà il commissario Balistrili. Ho capito, va bene e la ringrazio. Signora Steele, glielo chiedo ancora una volta. Dove si trovava il 18 maggio? Lei e sua sorella prima o poi parlerete! Grazie per essere venuto Balistrili. Ricorderà che quando ero giornalista del domani scrivevamo sul caso Caruso e Bonocore. Il primo chiuso, il secondo insabbiato. Per l'intromissione dell'ambasciata e dei medi americani devo raccontarle alcune cose al riguardo. Lei riapra il caso.